La Sardegna, grazie a finanziamenti per 115 milioni di euro, 50 milioni di euro previsti dal patto per la Sardegna, cui sono aggiunti 65 milioni stanziati dal governo, può portare avanti un importante processo di manutenzione e adeguamento delle principali dighe del sistema idrico multisettoriale. La conferma è arrivata ieri nell'Assemblea regionale dall'assessore ai lavori pubblici Edoardo Balzarini, che ha fatto il punto della situazione degli invasi sardi e delle riserve accumulate attualmente disponibili. Le precipitazioni abbondanti di questi mesi hanno portato le risorse idriche accumulate a 1 miliardo e 290 milioni di metri cubi, pari al 73% della capacità totale di invaso delle dighe sarde, che è di 1 miliardo 750 milioni di metri cubi d'acqua. Fa bisogno annuale teorico della Sardegna di 700 milioni di metri cubi annui, di cui 450 milioni per l'agricoltura, 230 per il potabile e 20 per l'attività industriale. Ma ricordato l'assessore Balzarini c'è la necessità non soltanto di programmare e realizzare opere per adeguare e potenziare gli invasi, ma anche di esercitare una capacità di gestione della risorsa idrica che sia equilibrata e oculata, tenendo conto delle esigenze di approvvigionamento primario idropotabile, ma anche delle esigenze del mondo agricolo. I finanziamenti permetteranno all'enas principalmente di intervenire su 28 grandi dighe che sono sottoposti alle verifiche di sicurezza del Servizio Nazionale Dighe. In alcune strutture, come la diga cantoniera di Busacchi e quella di Montellerno di Patata, si vedrà la capacità di invasora doppiata. Inoltre verrà completato il collegamento tra il sistema del Tirso del Flumendosa e le aree del Sulcis.